Le stelle di Azus Potete concludere buoni affari e anche il lavoro promette di gratificarvi, gemelli, l'amore è sempre ricco, gli avvenimenti, avete una buona carica passionale, non passerete inosservati agli occhi di chi già sta facendo pensieri su di voi, cancro, marte vi rende un po' ansiosi sia in famiglia che sul posto di lavoro, prevale la vostra emotività e non sempre riuscite a prendere decisioni corrette, leone, sarete allegri e spensierati. In questa giornata che promette di regalarvi dei momenti di puro divertimento, con gli amici, il partner o i colleghi di lavoro. Vergine, inizierete la giornata con tanti buoni propositi, ma con il passare delle ore vi farete prendere dal nervosismo e dalla fretta rischiando di fare confusione. Bilancia, una bellissima luna illumina questa giornata, sarete allegri e motivati e non vi farete sorprendere da qualche imprevisto, sempre in agguato a causa di Marte. Scorpione, passerete la giornata a cercare i problemi anche dove non ci sono, avrete bisogno di individuare un nemico per giustificare le cose che non funzionano. Sagittario, arriva una giornata un po' difficile, cercate di essere prudenti sul lavoro dove può nascere qualche contrasto perché sarete accusati di spregiudicatezza. Capricorno, avete la testa fra le nuvole, non riuscite ad essere lucidi in amore e spesso siete impacciati facendovi sfuggire delle occasioni per paura o timidezza. Acquario, la luna in giamelli vi aiuta ad affrontare ogni problema con coraggio e autostima, non sarà difficile portare a casa buoni risultati anche grazie alla fortuna. Pesci, con la luna in quadratura sarà difficile tenere a freno il nervosismo specie sul posto di lavoro. Ci sono cose che non vi vanno a genio e oggi lo farete notare. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.